Sono rientrato in partita e mi ha fatto ripartire da qua, per fortuna che mi ha fatto ripartire da qua, se no non vedevo quell'emblema. Ora è tutto un problema degli angeli, non è più un mio problema, a parte lui e lui là in fondo. Ehm, è molto probabile che questo cannone ora me lo fa lasciare giù, quanto ci fai? Guarda non posso neanche portare, non mi fa neanche attivare il portale, pensa che merda. No, stavo per, era quasi partita l'animazione, ne sono sicuro, ne sono sicuro che era quasi partita. Me lo volevo portare quel fucile, era diventato il mio migliore amico, sono sicuro che in qualche modo si poteva incastrare il tutto. Attento a cosa desideri, Arconte. La bacchetta di Arafel. La bacchetta di Arafel. Ho aspettato tanto, questo momento. Tu mi puzzi, fattelo dire. È potente, proprio come l'avevo sempre immaginata. Secondo me lui è corrotto. Apriremo un sentiero fino alla tua città. Un sentiero? No. Libererò l'intero regolo. Guarda, fai quello che vuoi, basta che mi fai passare. Messi però le tenebre, con la luce sacra. Vai! Quanto ci fai che non ce la fa? Eh, forse, forse. Qualcosa secondo me è rimasto. Se vuoi raggiungere la cittadella, ti serviranno le ali. Dammele. Arrivo! Ah, no, pensavo fosse il grifone come per guerra. O forse lo è, aspetta. No, è una tigre. No, è il grifone, perfetto. E stai buono. Che bello. Alessio è lui, il nostro nuovo migliore amico. Cerca lo scriva, quello più anziano. È ancora tra le rovine. Grazie. Può aiutarti per la tua missione. Tu mi puzzi. Mi sa tanto che se torniamo fra bototte episodi tu sarai corrotto. Ho questo brutto presentimento per te, mio caro. E... Come... Cosa devo fare? Devo fare qualcosa? No? Ma guida lui in automatico. Spiegami, per favore. Vabbè. Silenzio, niente musica. Neanche un nemico che viene. Almeno con guerra eravamo lì. Tu che sparavamo su sta parte. Ehi! Ma scusa, a sto punto, piuttosto che farmi vedere tutto il percorso, io l'ho fatto così. Ma fammici arrivare tipo con una cazzin. Siamo arrivati. Grazie, piccione. La cittadella d'Avorio. Chissà se esiste anche una controparte della cittadella d'Ebano. Raggiunge la cittadella. Che bella accoglienza. Ma proprio un caldo benvenuto. Mi chiedo se... Oh, ma guarda. Allora, fermi tutti. Vediamo se... No, eh. Peccato. Ovviamente. Ah 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 ah. Eh certo. Per fortuna che abbiamo... I nostri strumenti che ci riforniscono di vita. Allora, tu... Che cosa servi? Sei un ascensore. Ok. Il solito puzzle... Puzzle minigioco. Avvicina i due oggetti per farli combaciare così ripulirà l'area dalla corruzione. Ok, forse è meglio sbrigarsi che non si sa mai. Va bene. L'importante è saperlo, guarda. Tra l'altro io mi chiedevo dove fosse... Cioè, da dove venissero... Scusa un secondo. Da dove venissero... Eccolo là. Quegli scheletrini lì. Io non ci arrivo, vero? Peccato. Allora, dovrò fare il giro. Sicuramente hanno messo il coso esplosivo per evitare di fare gli sgargiuli di ste balle. Grazie. E fare il marcione. Guardali che furbi. Non riesco neanche a passare una finestra. Ok. Mi servono degli esplosivi. Mi servono... Degli... Aia! Ma che male! Ma... Mi ha tipo posseduto. Mi è entrato nel corpo. Ma che pezzo di stronzo. Qua però ci posso arrivare, dai. Eh, che cavolo. Eh, che si dica, che si dica. Anche gli angeli hanno sempre problemi. Non è mai facile essere la parte buona di questa storia, vero? Belle le fontane di corruzione. Complimenti. Danno quel tocco extra a tutto quel bianco. Belli quei cadavri che puzzano di verde. Io mi chiedo se ci siano modi... Per glitchare. O meglio, per speedrunnare... Certe parti saltando del tutto tipo puzzle. Come questi sicuramente esistono. Oppure chi fa le speedrunn è velocissimo. Ovviamente, se no non sarebbero speedrunn. Però capite il senso. Sono velocissimi a fare queste parti. Dicono saltano i nemici. Vanno avanti direttamente. Se ne fregano... Del livello, magari. Magari fanno tutto il gioco al... Al più basso possibile di livelli. Io non sono... Allora, non è che non sono capace. Diciamo che... Io... In questi giochi... Uno, se li gioco per la prima volta... Voglio farli in maniera... Più completa possibile. Due... A prescindere da tutto... Mi piace girare e vedere se ci sono oggetti... In ogni angolo. Dite che... Riesco ad ucciderli a pistolettate? Vorresti colpir... Ok, guarda. Ma a me va bene se tu... Vieni di qua, eh. Non credere. Stai buono, scemo. Allora, adesso ammazzo anche... L'altro tuo amico. Forza, forza. Venghi qui. Venghino, signori. Venghino. Venghi, venghi. Venghi che... Le do... Il bel servito come il suo amico. Tra l'altro sono sicuro che qui nella cittadella d'Avorio... Troveremo la portal gun. È di nuovo apparso il... Quel muro con sul simbolo cerchio. Secondo me... Se non lo troviamo qui non ha senso di trovarsi altrove. Perché vorrebbe dire... Tornare veramente... Indietro di tantissime aree. Questa, quella dei morti. A meno che... Non funzioni in cotesta maniera. Non funzioni... Oh, ho sbagliato. Volevo saltare sul muro. Non funzioni in cotesta maniera. Ovvero che... Tutti i portali sono randomici. Ovvero che... Se spari magari qua nella cittadella... Poi ti ritrovi nel mondo dei morti. Perché è X motivo. Oh, ecco fatto. Dov'è? La cesta. Grazie. Verde. Ah, blu. Non male. Ok. A livello di difese non è neanche male. Ci aumenta l'esperienza. Però... Ci diminuisce il danno critico che... Per quel 21% sinceramente... Sto bene così. Cioè va bene quell'extra in più di difesa. Ma... Guarda. Avendo la rigenerazione della vita... È l'ultimo dei miei problemi. Certo, se mi one-shotano... Magari un pensiero in più... Sulla mia difesa ce lo faccio. Vediamo se... Il signore di contest post è ancora vivo. Tanto platforming. Vedo tanto platforming. Allora, mettiamoci la manina. No, di qua. Di qua. Ecco fatto. Sì, sicuramente troveremo... Vieni qui, vieni qui, vieni qui. Com'è morto? Ma scusa. Vabbè. Amen. Volevo fargli il colpo di cerchio e vedere. Minchione. Bravo. Comunque. Stavo dicendo... Allora, qua... C'è sicù... Stavo dicendo... Qua... Ma c'è la mappa. Guarda, ormai... Non mi sorprende più nulla in queste ciocche. Eccoci qua. Allora, vediamo dove dobbiamo andare. Dobbiamo farci tutto il percorso. Andare di là. Sì? È l'unico percorso? In realtà, sì. Oh, ma guarda, una reliquia. O meglio, un emblema. Va bene, vediamo di non ammazzarci cadendo. Allora, uno... Due... Oh, oh. Bravo. Tre... Quattro. Bravo morte. Ovviamente, eh? Sì, ti sarebbe piaciuto. Scemo. Oh, ma guarda, c'è dell'acqua pura, incredibilmente. E un altro emblema. Grazie. Questi... Non lo so, allora, se spenderli per Vulgrim. Se ne vale la pena. O tenermeli da parte per il level massimo. E quando? Beh, però, se trovassimo delle falci. Se trovassimo delle falci... Mmm, vediamo. Ovviamente, si abbassa. Dicevo, ovviamente, se trovassimo delle falci, sarebbe tutto meraviglioso. Allora, usiamo le nostre statuette. Qua probabilmente dopo si apre. Allora, vediamo che cosa... Oh, ah, è una leva, sto dicendo. Cos'è quella roba? Vediamo che cosa si apre. Allora, ci apre il portone qui. Allora, è molto probabile che il giro sia... Attiva, fai passare... Ho già capito, aspetta. Ho già capito l'errore. Allora, statua qui. Una copia la metti qua. L'altra copia torna qua sopra e apre l'altro portone. Sono caduto. Ovviamente, siamo dall'altra parte. Questo era molto più semplice di tanti altri puzzle che abbiamo già fatto. Oh, ma guarda. Angeli corrotti. Becca di questo. Madonna mia. Se all'inizio pensavo che i mangiacadaveri facessero... Non ti dico pena. Però non fossero forti. Mi devo ricredere totalmente. Sì, guarda. Ci sono tanti di questi portali che sicuramente in questa zona li useremo. Sicuro. Vai, prendi il calcolo. Ok, non esplode se lo prendiamo. Esplode solo quando lo lanciamo. Perfetto. Allora, inizierei un attimo a lanciarlo in giro dove possiamo. Ecco qua. Oh, ho già... Forse ho già capito. Apriremo un portale qui. Lo spareremo anche dall'altra parte. Lanceremo la caccola da qui a lì. E romperemo anche l'altro... L'altro coso di corruzione. Vediamo la leva che cosa ci ha aperto. Tarararadan. Ah, ci ha aperto... Uh, ok. Ci ha aperto tutto. Ah! Eeeh! Portale d'oro. Parto di una mente ignota ma paragrammatica. Il portatore d'oro priva le sue vittime non solo della vita ma anche dei loro averi. Bello. La lama recisa ha inciso il nome motto. Le spoglie al vincitore. Ma che figata! Sicuramente queste falci non sono neanche orribili come statistiche. Ti dirò. Sono molto in linea con quello che c'è in giro. Queste falci sicuramente unite alla corona dei morti ti fanno farmare un sacco di soldi. Sicuramente, sicuramente. Bella la gonnellina. Non male, non male come premio. Se avessimo bisogno di soldi, e molto probabilmente più avanti ne avremo dannatamente bisogno, abbiamo già come farli. E ora possiamo andare dall'altra parte finalmente. Siamo... Ah no, pensi... Uh, eccole. Eccola lì la portal gun. Signori e signori. Ah, speravo di aprirla con una combo sola, io. Potere acquisito. Portal gun, ottenuta. Vediamo. Accesso al vuoto. Consente a morte di evocare su delle superfici speciali due portali attraverso i quali potrà spostarsi immediatamente. Sono stato bravo. Eh, hai voglia. Mmm, chissà su dove dovremmo usarlo. Chi lo sa. Forse uno lì e uno là? Può essere. Allora. Mmm, allora. Ti dirò che... Possiamo anche caricarlo. E qua... Ah, certo, è vero. È vero, mi ricordo che se lo caricavi ti faceva... Lanciare più forte, è vero. Eccoci qua. Portal gun, ottenuta. Vediamo, allora, qual è la prima cosa che faremo con te sta portal gun. Sarebbe bello se te la facessi usare... Anche contro i nemici, ma... È... Dove sei? È palese che... Si utilizzi solo e solamente per muoverti. Allora, uno lo lancierei lì... Giusto per vedere... Cosa c'è dall'altra parte. Eccoci qua. Ovviamente. Ci sono nemici. Oh, grazie. Ma... Potrebbe esserci... Ok. Non ti dico che mi aspettavo una cesta, ma... Magari un altro oggetto nascosto. Però sì, due oggetti nascosti nella stessa area magari era un po' troppo. Daradaradandan. Si scende di sotto, sì. E allora, prima di andare là, torniamo indietro. Disattiviamo il portale e lo lanciamo. Là. E lanciamoglielo su. Puff. Che cosa nasconderà? Andiamo a scoprirlo. Oh, una bella cesta. Un set di armature anche qui. Potrebbe essere... Le falci angelo della morte. Due falci in una zona così. L'arso consiglio incaricò i fabbri più abili del Pardiso di creare l'arma per i quattro cavalieri come tributo al ruolo da essi avuto nel preservare l'equilibrio. Forgiate con il potere della luce le falci doppie angelo della morte. Restituiscono energia ad ogni colpo inferto e nemici. Bello. Non ho nulla da dire contro. Peccato che siano ovviamente falci non potenziabili. Ma se lo fossero state, Cristiano Doni, sarebbero state rottissime. Energia colpo segno, energia per uccisione e energia da colpo critico. Cioè, proprio vuoi ricaricarti? Usa questa. Cavolo, due falci in una zona così piccola è... è mica male. Ma dite che posso sparare i portali attraverso il portale? Potrebbe essere. Va bene, scendiamo di sotto. Tieni premuto per creare un portale caricato. Ok, questo già lo sappiamo. Perché questa cosa? Oh, era un'arma posseduta? Era un'ascia posseduta. Devo essere sincero che nelle armi possedute secondarie almeno non ho più interesse. A meno che non siano uniche. Cioè, se fosse una zona da kidnap, però potenziabile, ti direi... Guarda, sì, però... Allora, potenziamo il portale. Potenziamo anche quest'altro portale. E ci buttiamo dentro. Puff! Oh, la miseria. Là c'è l'altra corruzione da dove siamo arrivati. E niente, dobbiamo fare tutto il percorso. E ora qua si chiude. Quanto ci fai? Quanto pale... Cosa sei? Oh! Un nemico angelo unico. È tipo un'arpia, però. Mamma mia! Che difficoltà! Uh, attenzione! Sono arrivate le arpie! Ci stiamo cacando sotto! Vediamo se riusciamo a fare lo stesso trick di prima. Ovvio che riesco. La vostra intelligenza artificiale è pari a quella di un piccione. Dai! Non devi sparare, devi venire qui. Stai fermo! Va bene, ho capito. Vengo io. Adesso arrivo e vi faccio male. Siete scappati al mio amore? Adesso ve lo do tutto grande e tagliente. Vieni qua! Oh, vieni qua! Allora, non l'ho visto bene, ma sicuramente fatto male. Ecco fatto. Allora, 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 dovrò fare esplodere la corruzione. Molto probabilmente. Allora, c'è da dire che ce l'avevo fatta. Il mio piano aveva funzionato. C'era solo un muro invisibile. Allora, uno lì e l'altro da quella parte. Taradaradanadan. Oii! Ecco fatto. Vediamo cosa ripulisce. La corruzione, perfetto. Missione compiuta. Vediamo se pulisce anche quella zona. Ovviamente no, perché è troppo lontana. Probabilmente c'è un caccolozzo da queste parti. E qua che cosa abbiamo? Vediamo. Ah, dovrò saltare probabilmente da qui alla sopra. Grazie dell'emblema. E vediamo se il cristallo di saggio è da questa parte. No. Però ci sono altre arpie. Becca di questo. Madonna mia. La semplicità con cui faccio fuori certi nemici è molto spesso disarmante. Ecco fatto. Morti? No. Manchi solo tu. Tutto questo solo perché i miei minion sono morti prima di ucciderti. Allora, vediamo. Oh, aspetta. Ho già capito. Mettiamo statua messa qui. Ecco fatto. Uno dei miei va qua. Ok, 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 ok. L'altro dei miei va dall'altra parte. Ecco fatto. Noi cadiamo. Dovrei aprire il portale molto probabilmente. Cos'è che devo fare? Devo spararmi dall'altra parte? Ne dubito. Oh sì. Proviamo. Carichiamo. Carichiamo anche il secondo. Magari la nostra forma di statua romperà quelle catene o quelle mura. Che ne so. Ah, questo gioco ha uno strano senso di come funzionano le regole. Vediamo se funziona. Ok. Ha funzionato perché l'abbiamo tirati giù, è certo. Come no? Dai, siamo quasi in cima. Ormai non manca molto. Ecco, fatto. Uno e due. Zona di combattimenti. Molto probabil... No, aspetta. Con quale dovevo collegarlo ora? Ah, con quello là sotto. Meno male. Madonna mia, già avevo le preoccupazioni di dover scendere io. Già avevo paura. Ah, la corruzione! E l'acqua fu purificata. Posso usare la fontana per scendere di sotto? Giusto, giusto. I percorsi quelli alternativi. Se questo fosse un parco acquatico mi starei quasi divertendo. Aspetta. Porca miseria, se lo sapevo. Quanto... Allora, è probabile che sopra magari me ne sono persa una. È molto probabile. Ma quanto lo sapevo. Quanto lo sapevo che sotto uno di questi c'era qualcosa. Ah, santo Dio. Prendiamo il caccolozzo e proseguiamo. Prendilo. Grazie. E lancialo contro la corruzione. E tu? Scusami. Ah, quel nemico che abbiamo visto prima per mezzo istante. È molto probabile che sia il bossettino della zona, il nuovo nemico. Vediamo. Oh, una fontana è pulita. Ma che meraviglia. Peccato che l'altra sia ancora sporca. Grazie. Grazie. Grazie.